Una serie di terremoti si sono verificati durante la notte nell'area dei campi Flegrei. A partire da luna circa, l'osservatorio vesuviano ha rilevato 26 terremoti. L'evento di maggiore magnitudo, 2.7, è stata registrata alle 3.03, con epicentro localizzato nel cratere del vulcano Solfatara. Il terremoto si è prodotto alla profondità di 2,41 chilometri e accompagnato da un boato. È stato avvertito a Pozzoli, Arco Felice, Bagnoli, Quarto e Agnano. Sono quasi 260 gli anni di carcere chiesti dall'antimafia nel processo contro il presunto clan Fezza dei Vivo di Pagani, in provincia di Salerno. L'inchiesta fece luce sulla federazione tra gruppi camorristici di Pagani e Poggio Marino per il controllo dello spaccio di droga, estorsioni, autoriciclaggio, possesso d'armi, intestazioni fittizie ed ulteriori reati tra l'agro nocerino e del vesuviano, con il reimpiego di proventi in attività finanziarie e commerciali in Italia e di Spagna. Siamo contrari al salario minimo fissato per legge perché è un salario troppo basso. Noi vogliamo il salario ricco, quindi seguiamo le posizioni dei sindacati come la Confsal che puntano sulla contrattazione collettiva. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un appuntamento del sindacato Confsal a Napoli. Se ci sono dei contratti pirata noi dobbiamo far sì che questi contratti si adeguino alla contrattazione nazionale e poi bisogna dei tassare straordinari, festivi e premi di produzione in modo che ogni lavoratore possa avere uno stipendio più ricco, non lo stipendio più basso, conclude il vicepremiere sulla questione salario minimo. La geotermia e l'aerospazio per la sostenibilità ambientale e per lo sviluppo è il tema del terzo forum green promosso dai Rotary Club dell'area metropolitana guidati da Carla alla transizione energetica, all'innovazione tecnologica, allo sviluppo sostenibile. Continua l'impegno dei Rotary per l'ambiente. È una piazza importante perché è una città dove la fotografia è una parte creativa fondamentale, è una città che ha dato in Italia grandi fotografi, grandi fotoreporter italiani e quindi ci tenevamo molto. Sono le parole di Andrea Pacella, Laica Global Marketing Director a Napoli insieme a tutti i responsabili italiani di Laica per partecipare all'inaugurazione dello store partenopeo di Laica grazie alla collaborazione con R-Store. Si tratta del primo store monomarca nel sud Italia della nota azienda tedesca, leader del mercato di apparecchiature fotografiche e ottiche. Il punto vendita del capoluogo partenopeo in Vianisco 25 si pone l'obiettivo di diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di fotografia che desiderano ammirare e provare tutta la collezione di prodotti di casa Laica con il supporto di uno staff qualificato e sempre aggiornato. Victor Rosimène è ai saluti finali con il Napoli ma rimarrà nella storia del club azzurro e nei cuori dei tifosi partenopei. Tante le rappresentazioni iconiche presenti in città che faranno sentire meno la sua mancanza, almeno a livello visivo. In campo sarà un'altra storia, ma l'ultima opera a lui dedicata è davvero particolare con un significato importante. Victor è il nome dell'opera realizzata dall'artista Nicola Satolosa e ideata da Felice Ricciardi, fondatore del progetto di riqualificazione Vivi via Cirillo.